L'imprenditore empedoclino Giuseppe Burgio, 52 anni, è stato arrestato dai militari della Guardia di Finanza di Agrigento eseguendo un provvedimento del GIP del Tribunale Francesco Provenzano, che ha colto la richiesta del sostituto procuratore della Repubblica Brunella Sardoni. Per Burgio l'accusa contestate di bancarotta fraudolenta ed altro. L'inchiesta giudiziaria è scattata, qualche anno fa prese le mosse dal crack dei supermercati sparsi per tutta la provincia di Agrigento e Caltanissetta, di proprietà di Burgio. Secondo l'accusa, Burgio avrebbe distratto dei fondi da alcune società che operano nel settore della grande distribuzione e di cui lui è legale rappresentante. Il procuratore della Repubblica di Agrigento, Luigi Patronaggio, intervenuto alla conferenza stampa nella sede della Guardia di Finanza, ha illustrato i dettagli che hanno portato all'arresto di Burgio. Patronaggio ha spiegato che l'importo complessivo della bancarotta è di 50 milioni di euro sottratti ai creditori e che 13 milioni di euro sono finiti in tasca proprio all'imprenditore. Banca rotte di questo livello ad Agrigento sono rarissime e avvengono per due motivi, compiacenza sociale e compiacenza bancaria. Le banche hanno tollerato e aggravato gli effetti come non avrebbero fatto con altro normale cittadino e proprio questo fatto è sotto indagine. I trascorsi del Burgio sono ormai famosi, altre indagini stanno effettuando rilievi sulla personalità di Burgio e del suo modo di fare imprenditoria che finora ha costituito una grave turbativa economica e sociale. Anche il PM Gabriella Sardoni è intervenuta nel corso della conferenza stampa spiegando che sono quattro le società coinvolte, tutte società fallite tra la fine del 2011 e il 2012 che diventa anno cruciale e fanno capo al gruppo Burgio. La gestione è stata scellerata, finalizzata a distrarre i capitali e farli finire nelle tasche personali del Burgio. Un esempio tra tanti, il capitale della Gestal era eroso dal 2004, già da allora doveva liquidare e invece prosegue fino ad oggi. Quasi un milione di euro della Gestal è stato denaro costruito da Burgio per il famoso yacht di 34 metri e a lui concesso il leasing. C'è stato un grosso aiuto della Unicredit di Agrigento, ma anche il regionale, che ha sospeso per almeno sette mesi i debiti di Burgio, cosa che non avrebbero mai fatto con cittadini normali per 9 milioni di euro. E ci sono state assegne emessi e pagati dalla banca e abilitati solo sette mesi dopo. Questo è un finanziamento ingente e anomalo, che è sotto indagine ancora oggi con pagamenti di 15 milioni di euro pagati dal Burgio, ma in realtà questo finanziamento è stato concesso da un fondo londinese. Insomma, proposte fittizie e nessuna società che è disposta a dare 15 milioni di euro, quindi un raggiro sul raggiro. Ancora oggi si parlava di transazioni, ma estate e i creditori ancora aspettano di essere risarciti. C'è dunque un altro filone che riguarda i banchieri della Unicredit che hanno causato e contribuito alla bancarotta. Indagini tutte condotte dalla Guardia di Finanza, la situazione è molto complessa. Burgio è stato arrestato perché occorreva mettere un freno alla sua persona. Fra le società coinvolte nella vicenda, la CDA era quella più grossa e su essa si sono giocate le sorti delle altre società. Burgio per diversi anni ha fatto quello che voleva. Grazie. Grazie. Grazie.